Musica E per altri ragazzi sono Jesse con questo nuovo video Oggi vi porto l'unboxing dell'iPhone 11 Pro Max Se no così non scioglio lingua Ed è molto ostia, voglio ricordarmi Perché mi viene sempre da dire X Pro Max Non so perché Ma mi viene da dire X Pro Max Comunque Allora, iniziamo subito perché sono molto molto di costa Che devo prendere il tre per andare a Milano Allora, iniziamo La confezione è nera quest'anno Come Apple ci ha sempre fatto, quasi sempre ci ha fatto capire Che per i modelli un po' più Pro, diciamo Più pregiati, potremmo dire Ha fatto la confezione nera Come ha fatto per l'iPhone 7, 7 Plus, Jet Black L'iPhone dal 2G al 4 E poi la confezione nera per molti smartphone Cioè per molti iPhone di colorazione nera Jet Black, Space Gray E così via Adesso mi accingo a Apri la confezione che purtroppo è già spellicolata Perché dove l'ho comprata? Me l'hanno aperto prima Come si vede che vogliamo vedarlo Perché io l'ho trovata già così E tipo stavo a sbroccare Allora, piano piano Mamma mia, signore Adesso vedo a far notare questo dettaglino Che non si vede Ecco, questo dettaglino quello che c'è Il cavo per la fotocamera Per le fotocamere Non si vede però Adesso mi accingo a Sollevarlo Troppo Non so se riesco a farvi sentire Ah, che goduria Che goduria, signore Che goduria Dietro non ho la pellicolina Perché hanno messo il satinato A parer mio, secondo me Perché non riuscivano ad attaccare Tutto il vetro satinato Oppure per dimostrare il fatto Che è talmente arrestato Che non ho bisogno di pellicole O protezione Dietro Questo non lo so Comunque lo mettiamo qua Guardiamo in confezione Il solito Kit Manualetti Adesivi E robettina varia C'è il tipo del solito ciao Manuale di istruzioni Dentro ci sarà anche la spelletta per la sim Ora Andiamo una parte su cosa Caricatore Fast charge Con USB-C E Dalla bellezza Di Più piccolo Non potevano scriverlo 5V 3A Le classiche Earpods Col Cavettino Senza Ricordiamo Senza l'adattatore Lightning jack Perché hanno deciso di non metterlo Per spingere di più Le earpods Che a parer mio Potrebbe essere un po' Una porcata Io avrei preferito mettessero L'adattatore E non le cuffiette Lightning Ora non posso più di chiuderlo Malvagi Ok E Il cavetto Che è Lightning USB Di tipo C Spero che si veda Non so se riesco a mettere a fuoco Comunque E viene solo lo sposto C'è il faretto In questo bianco Brucia Da far schifo Nell'immagine Comunque Farò il primo view E una configurazione Lampo Da zero Perché tanto Devo prima aggiornarlo Prima di poter installare il backup Del mio iPhone X Perché io ho saltato L'iPhone XS Max O comunque L'XS Ora Sperando che abbia batteria Cosa che di solito c'è Nell'i smartphone Apple Forse Ok Anceso si accende Vedo che vedo che Dalla fotocamera Splicano Ok Adesso aspettiamo che si accenda La pellicolina La mettiamo Qui dentro Adesso Ricchiudo Tanto io Come ho fatto in tutti i miei Precedenti iPhone Dal 6S in poi Non ho più preso La confezione La roba di confezione Sweepiamo Allora mi chiede Io sono Io parlo italiano La zona E Ok Spero che si veda Cioè Le luci dei faretti Qui sopra Perfetto Ok Spero che si veda Un pochettino Se la fotocamera Permette Ok Allora Italia Italia Dove sono? Italia Postazione lingua Non è bello che mi chiede Che lingua parlo Poi postazione lingua Dice dopo che ho fatto Il paese Però vabbè Comunque Se vedete è scritto Sony E perché sto tenendo la fotocamera Più alza Configuriamo manualmente Mi chiede la password Del wifi Non so Mettiamo un attimo La password Del wifi Ok Intanto lo configuro Come fosse un nuovo iPhone Come ho già detto Quindi non c'è bisogno Di mettere troppi dati Mi chiederà lì di Apple E la confermo Su un dispositivo Quindi dovrei andare A prendere il mio vecchio iPhone Che sta A fare il backup Mi sembra anche giusto Ok Dati e privacy Continuo Face ID E Riprispionare Riprispionare Non traservire app i dati Ok Adesso mi chiederà I dati del mio ID Apple Ok Mail messa Posto messa No Comunque Devo dire Si tiene Veramente bene in mano Giustamente Ho messo la posta Sbagliata Perché se no Non è un mio video Se no sbaglio qualcosa Il bello è che adesso Scorrerò a Milano Ok Mi chiede Arrivo subito Magicamente Sono di nuovo qui Ok Accettiamo Termine le condizioni Cioè riflessi della Sony Mannaggia La Sony E Diciamo Si tiene abbastanza bene in mano Non è troppo pesante Diciamo che pesa All'incirca come un iPhone X Con la cover batteria Di original Apple All'incirca non è Più pesante Bello come Qua è lucido La mia letta è lucida Il resto è satinato E qua è nuovo lucido Ed è un pezzo di vetro Unico Come invece Nell'iPhone X XS Max C'erano le fotocamere Che avevano il loro scomparto Qua Hanno il loro scompartino Qua Ma qua È ancora un pezzo Del vetro Che è stato proprio Intagliato Quindi tanta roba Si è un aggiornato Il tuo iPhone Continua Abilità Servizi di giocalizzazione Adesso Classica robettina Vale Si Purtroppo La postazione Unboxing Non è ancora pronta Perché non sono ancora Riuscito a montare la staffa Su Quindi GG per me Bello che sono le tre Ok Si è aggiornato Adesso sono le 12.12 E sono effettivamente Le 12.12 Il mio Apple Watch conferma Nonostante gli abbia già detto Che ero in Italia Lui ed ho voluto La localizzazione Per essere più preciso Quindi GG per lui Apple Pay Configura in seguito In Wallet Perché io Ancelo la carta di Apple Pay Siri Lo impostiamo dopo Perché non mi metto A fare come il PLA Siri Dopo lo facciamo Non condividere i dati Continuo Tema scuro Ovviamente Standard Non voglio lo zoom E continuo 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 Swipe up Signori Siamo dentro Aspettate che Ok Ok ho visto già Il Face ID Molto Very very fast Vuoi usare questo dispositivo Una condivisione Posizione Usa Va bene Tanto Allora Io quello che mi prego Foto camera Consenti Continuo Allora Adesso mi metto così Allora Non vedrete niente Che c'è il falletto Questa è la standard La grandangolare Questa è l'ultra wide Che quindi si vede L'intero studio Questa è la zoom Che si vede Tipo solo la fotocamera Quindi GG per lui Non farò gli slophie Perché mi rifiuto Categoricamente Scusate se non è un video Proprio Super mega professionale Ma gli slophie Non lo faccio Qua posso Fare eventualmente Tipo il formato Quindi dico 16 noni Proprio con questo qua Dovrei poter Ecco Avere la grandangola Comunque Se potete vedere così E così grandangola Un po' Grandangola Un po' Gergo tecnico Comunque Si GG per lui Poi Vedo che qua È tutto Come dovrebbe essere Clip è già installato Com'è È da un po' Di versioni Comandi Impostazione Adesso questo Comprato così Monta 13 Normale Vedo che forse Mi sta importando Già qualcosa Non è vero Tacchiata Pensavo Tipo Musica Libreria Carico Libreria Le foto Non le apro Tanto dovrebbe Caricarle Wallet Ok Non carica Ancora Niente Dei miei Biglietti Aerei O roba del genere Io tengo I biglietti aerei Salvati su Wallet Anche quando Sono già partito E tornato Perché è un ricordo Mettiamola così Cioè È Per questo Visto che non so Scaricare YouTube Andiamo No Mission Y Capito YouTube GG connessione lenta oggi Soprattutto tema scuro Fatemelo disattivare Se no non vedete ancora No Mamma mia che brutto Che brutto Che brutto No Giusto Togliamo il trutone Mettiamo il volume Al massimo Che brutto Hanno tolto il 3D touch Una cosa che per il mio Era più bella di tutte Comunque Vedete che lo sfondo È cambiato Quanto parla Non funziona Magari giro un pezzo Di questa review Anche in treno O a Mirano Quindi io chiudo qua Per adesso Vedrete O l'outro O Magicamente Un'altra location Io vi saluto Vi ringrazio Alla prossima clip O al prossimo video Bella Sono appena appena tornato Da un viaggio di tre giorni Due giorni e mezzo Da Mirano E ho portato questo Che ho usato come smartphone principale Dopo che ho cambiato il mio iPhone X Non XSX Prima gen E devo dire che Mi son trovato veramente veramente bene Allora Iniziamo Queste sono proprio delle prime impressioni Diciamo così Perché Presto Spero Arriverà il video Anche sul Test camera Tutte o tre le camere Video e foto Credo farò due video separati Uno per le foto Uno per i video Comunque Allora Mettiamola così Bello Veramente Veramente bello Non Alla prima impressione Non sembra essere cambiato troppo Intendo come primissime Per chi magari lo vede in negozio Perché Però se la domanda mi è Mi conviene Cambiare il mio iPhone X Mi conviene Cambiare il mio iPhone XS XS Max Vi dirò Se avete l'occasione Magari fatelo Se vedete che magari avete i soldi Perché Vendete quello prima Vendete prima quello prima O Vi scade il contratto del cellulare Io vi consiglio di farlo Perché Devo dire che mi son trovato veramente bene Io vi parlo soprattutto da fotografo Adesso sono andato a Milano Questi tre giorni Ho portato Questa che mi sta filmando La mia Sony A7 II Che io adoro per fare foto Non l'ho usata Non l'ho usata perché Io che odio fare foto con lo smartphone Mi sono trovato veramente bene a fare foto con lo smartphone Quindi ho fatto solo foto con questo qua Adesso non vi lascio niente perché sarà tutta una sorpresa Ci ho aperto la fotocamera Sarà tutta una sorpresa Poi per Il Il camera test Io ho fatto delle foto così Purista style Storie in Instagram Tanto Se mi seguite su Instagram Chiocciola Josef Trattino basso saglietto Trovate Potevate trovare qualche storia In cui ho Pubblicato Pubblicato qualche storia Con Questo Con delle foto che ho fatto Soprattutto con l'ultra wide Che Devo dire che È stata la cosa più bella del mondo Comunque Le due cose che mi sono piaciute di più di questo smartphone Sono La batteria La batteria è durata tantissimo Io vi dico Ieri che ho fatto proprio il giorno intenso Ho staccato Entrami i miei smartphone Quindi l'X e l'11 Pro Max Dalla carica alle 8 e mezza Contemporaneamente Ho usato l'iPhone 11 Pro Max come telefono principale Foto Video Storie su Instagram Navigatore Ho usato tanto il navigatore Musica Sono tornato a casa Avevo il telefono Al 30% circa Ed erano le 10 Non l'ho attaccato sotto carica Fino alle 11 Ed era ancora al 27-28% L'ho usato di meno nell'ultima ora Però Tanta roba Questo che veramente l'ho usato per fare due telefonate Da circa due minuti Due barra tre minuti L'una E basta Non l'ho usato per niente Perché non ho usato questo qua assolutamente come principale Mi sono pure fatto da router Mentre ero in treno con l'iPad E che lavoravo Ed è arrivato a casa all'incirca Al 10% Nonostante io non l'abbia usato Niente a parte per fare due telefonate Le ho staccate contemporaneamente Ricordo Voi dite Che cacchio di test è? Non hanno la stessa batteria L'iPhone X ce l'ha da due anni È usurato? Sì Io però ve ne parlo Come utente Normale Quindi Come fossi Uno di voi E non come Altri Youtuber Che magari provano L'iPhone Per due settimane Poi cambiano l'altro Allora dicono Le batterie infinite Perché magari hanno L'iPhone di tre anni fa Che è ancora La batteria è intatta Perché non Non l'hanno usato Prontamente niente Poi è vero Che fanno le cessioni Paragoni Un anno dopo Di anni dopo Quindi ci sta Giustamente ci sta Però io ve ne parlo Come di averlo usato Come telefono principale Fisso Io non l'ho mai cambiato Ho sempre usato il mio X Da il 30 novembre 2017 Non ho mai usato Un altro telefono Come telefono principale Ho usato Un telefono Che era un Samsung Galaxy S8 Come secondario Per un periodo Ma secondario Perché mi serviva Per un secondo Per un periodo Ma pochissimo Intanto questo Questo è stato Sempre il principale Il numero di telefono Whatsapp Instagram Tutto da qua Quindi vi dico Il cambio è radicale Neanche con L'iPhone X Appena comprato Avrei potuto dire Che mi devlasse così tanto Nonostante Abbia L'iPhone X Nuovo Effettivamente Comprato nuovo Ha una batteria Già Tanta roba Onesta Io sono già uno Che non sta troppo Sul telefono Però quando inizio Con Instagram Mi perdo Adesso se vado a vedere Lo stato Della batteria Se vado a vedere Le analytics Della batteria Diciamo che Nell'ultime 24 ore Quindi calco Adesso sono le 10 16 Dell'8 ottobre Alle 10 16 Dal 7 Ho fatto 23% di batteria Con Instagram 18% di batteria Con Pokemon Go 7% con foto 7% con musica 7% con l'App Store 6% con Whatsapp Per il resto Va tutto a scalare Adesso mi segna Un sacco di applicazioni Che io non ho usato Comunque Schermo attivo È stato per 6 ore 57 minuti Schermo spento È stato per 2 ore 12 minuti Quindi vi dico Che in tutto ciò Ha fatto Tipo dei salti mortali Ed è durato Tantissimo Io devo dire Mi sono trovato Un sacco bene Direi che potrei Quasi paragonarlo Lo paragono Diciamo L'iPhone X Con la Smart Battery Case Di Apple Quella originale Che questa cosa Qua è la per XS Ma come sapete È compatibile Con l'iPhone X Bella che mi hanno Le notifiche di italiano Direi che È leggermente superiore Ma di poco Perché essendo Questa è una cover Batteria Cioè sarebbero Due batterie Messe insieme Comunque è leggermente Superiore Direi Almeno Un'ora in più Di batteria Diciamo Non potrebbe durarmi Quindi Cioè La differenza È minimale Però Questa è una cover Esterna Con la batteria Quello è tutto Dentro lo smartphone Quindi Tanta roba Anche lì Come peso Effettivamente È pesante Non è il più Smartphone più pesante Che ho provato Però Rimane pesante Lo Paragono anche qua Al peso Più o meno Uguale All'iPhone X Con la Smart battle case Adesso non è peso Preciso Io vi parlo A impressioni A sensazioni Cioè Tenere Questo E questo Mi sembra di tenere Più o meno Uguali Poi Alla fine Ovviamente C'è differenza Però Devo dire che ci si abita In fretta In questo caso Io ho preso Il Max Perché Non lo so Mi piaceva Metti a fuoco Ok Lo schermo Bella per Lo schermo che Non è Vabbè Fa rumore Non so perché c'è rumore Nello schermo Ok Comunque Grazie a telecamera Devo dire che lo schermo Allora Questo è Il rapporto mano Con questo E il rapporto mano Con L'X Con la cover Quindi Sa capire Più o meno In che stato è Direi che La paragone di grandezza È così Però io mi trovo Tanto bene Con il Pro Max Avendo le mani grandi Mi trovo bene Avere uno schermo più grande Per Boh Foto Video In questo caso Ho anche Fatto editing foto Su smartphone Non parliamo Di fotomontaggio Foto editing Però nella sezione Modifica Adesso Non vedete un cono Però Nella sezione Modifica Trovate Un pannello Di editing foto Egregio Diciamo Cioè Non è male Io mi ricordo Che una volta Era molto più brutto Era veramente Molto più brutto Adesso L'hanno migliorato Devo dire che Se si deve editare Qualche foto Magari per Instagram O roba del genere Che non mi serve In modo professionale Devo dire che È un'ottima Soluzione Anziché Scaricare tante app Che magari Sono a pagamento O Magari Non funzionano bene O sono identiche Perché ho provato tante app Che hanno volente L'editing uguale Però ho dovuto scaricarle Quindi è tutta memoria In più che ho usato Invece qua Era già integrata Nel pannello Foto Cioè nella galleria Io di solito Uso Lightroom Per editare Continuo a trovarmi Meglio con Lightroom Però Lightroom È a pagamento Quindi Non so quanto vi convenga Ecco diciamo così Diciamo che Il cambiamento Di telecamera Mi è piaciuto un sacco Cioè ho giocato un sacco Con le inquadrature Usando l'ultra wide Ho Notato che comunque Come Lato video Devono ancora sistemare L'ultra wide Perché ho notato Poca stabilizzazione Rispetto alla Uno per O la due per Ho notato Un po' più di rumore Rispetto alla Uno per E la due per Tipo sono andato Al teatro Degli Arcimboldi A Milano A sentire Assassin's Creed Sinfoni Che È stato Bellissimo E laggiù Era Buio Logicamente Quando facciamo Un spettacolo Ho filmato Qualcosina Per Ricordo Non avevo intenzione Di farvelo vedere in video Ma era per ricordo E devo dire che ho usato la due per Ed era Abbastanza stabilizzata Cioè era Logicamente era stabilizzata elettronicamente Quindi non si poteva Avere una cosa A mo' di Ronin M O roba del genere Però devo dire che la sua porca figura L'ha fatta Io comunque con il braccio Appoggiato Così Al Appoggio a braccia Tenendo il telefono Per così Il movimento era minimo Guardate anche i video Non si vedeva tanto A meno che non ero proprio Io muovermi drasticamente Il Il lato audio Registrazione audio Era spettacolare Perché Ho visto Un video di EframesTube E lui Ha consigliato Almeno comunque Sull'iPhone 11 Però ha consigliato Di mettere l'audio in mono Sono rimasto Incuriosito E l'ho provato in mono Però mi sono andato Di toglierlo Quindi non ho fatto la prova A registrare in stereo Comunque ho registrato in mono E devo dire che è venuta Veramente veramente bene Se mi ricordo Vi lascio Un clip di sonoro Della registrazione Al concerto Col Col mono È rimasto veramente bene Mi è piaciuto veramente tanto Non ho niente da dire A questo Riguardo Queste prime impressioni Sono state Troppo lunghe Per i miei gusti Quindi le chiudere qua Perché non mi sembra Di dover parlare più niente Adoro questo vetro Settinato Lo adoro Alla follia Odio la posizione Delle gamma Ne avrei preferito O tutte in verticale O in orizzontale Samsung style Però Ci fa quello che si può Hanno fatto Uno smartphone Che secondo me Per quello che ho visto E per quello che ho provato Su questo Su altri smartphone Della fascia 2019 Fine 2018 Tutto 2019 Rimane Attualmente Il miglior Camera phone In circolazione Ho provato il Note 9 Ho provato l'S10 Non ho provato ancora Il Note 10 Ho dato un'occhiata Alla OnePlus 6T E il 7 Non ho provato il 7 Pro E devo dire Che questo Parallel mio Rimane Il camera con migliore Ottimizzazione Fantastica Colori Fantastici Editing Interno Bellissimo Quindi Secondo me Se cercate uno smartphone Per fare foto E video Che sapete che Siete disposti a spendere E tutto un po' Vi consiglio iPhone 11 Pro O Pro Max In base ai vostri gusti Io ho preso il Pro Max Come ho detto Via Dello scampi grande Che mi piaceva Logicamente Se c'è una cosa Che sconsiglio Sconsiglio vivamente Di comprarlo Da 64 giga Perché non ci fate Niente Cioè Ci fate Io avevo l'iPhone 6S Con 64 giga E ci facevo stare Un sacco di cose Poi ho preso l'iPhone 7 Plus Da 128 Ci facevo stare Un sacco di cose Ho preso l'iPhone X A 256 giga E non ci sa niente Ho iniziato a fare Video 4K Tante foto Tante app Tutto un po' E ci stava poco Quindi i giornamenti Erano sempre un po' Più pesanti Ho preso Quest'anno L'ho preso Da 256 giga Perché mi sembra L'associato Da 512 Se continua Di questo passo Prossimo iPhone Prenderò Da 512 O da 1 tera Chissà se Decideranno Seguire La linea di Samsung E fare anche Nel taglio Di 1 tera Magari Apple Arriva lì subito Per battere 2, 3, 4 40 tera Potrei anche Aspettarmi Comunque Il video Mi sono piaciuto Un sacco In 40 In 40 Si 4K a 60fps Che è la qualità massima Che si può usare Per i video Lo slow motion Stava a 1080 240fps Volendo O a 1080 120fps I tagli di video Sono 4K A 60fps 4K A 30fps Adesso me li leggo Perché Il 4K A 24 Il 1080 A 30 E il 720 A 30 Non ho capito Perché Poi Volendo Si può bloccare L'opzione Di Switchare camera Mentre si riprende Io in questo caso L'ho lasciata libera Perché mi piaceva Ogni tanto Dezoommare O zoomare Anche se lo uso poco C'è l'HDR smart Volendo Che si può mettere Poi Niente Cioè Attualmente I settaggi sono questi Si può sempre Impostare il formato Si possono mantenere Le opzioni Che impostate Non mi è dispiaciuto Neanche Il fatto Che della telecamera Interna Si potesse avere Un inquadratore Un po' più Grande angolare Diciamo così Non ho provato Gli slow feed Non lo farò mai Sarà la sezione Che non proverò Mai nella realtà Anche se Anche perché io Con l'iPhone Faccio pochissimi Slow motion Normali Figuriamoci Gli slow feed Che posso dire È il nome più brutto Che abbia mai sentito Mi spiace Ma per una cosa del genere Non mi piace Per niente Io Chiuderò queste prime impressioni qua Adesso andrò a editare il video Se ce la faccio Vevo pubblicare Il primo possibile instant Io Vi ringrazio Vi saluto Vi invito A passare Negli altri video Che trovate sul canale Presto Arriverà Il video Camera test Foto Camera test Video Probabilmente Saranno su un altro canale Devo ancora vedere Trovate l'altro canale In descrizione Che è quello che uso io Professionalmente Per pubblicare i miei video Con il drone Con i roni Una roba del genere Quindi Trovate Si chiamerà comunque Si chiama comunque Jupiter.mp4videomaking Su youtube Trovate il link in descrizione Trovate anche il link Di instagram Sia del mio profilo Lavorativo Jupiter.mp4 Trattino basso Che Il mio profilo Privato Josef Trattino basso Saglietto In cui troverete Le mie storie Soprattutto fatte Dall'iPhone 11 Pro Io vi ringrazio Vi saluto Vi rimando al prossimo video Da Gioves è tutto Ciao a tutti Bella Ciao a tutti 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 Ciao a tutti